Un'iniezione di ottimismo, così il sindaco Nicola Sanna ha aperto la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Ducale di Promo Ottunno, in programma dal 14 al 16 ottobre negli spazi di promocamera pre Daniedda. Da anni manca a Sassero un'esperienza simile sotto linea Sanna, per questo se ne sentiva l'esigenza, infatti la risposta delle istituzioni, delle imprese e cittadine è stata molto positiva. Una proposta accolta come motivo di rilancio dal tessuto commerciale della città, aggiunto all'assessore Gianni Carbini. Promo Ottunno, nuovo polo fieristico del nord Sardegna e non semplice fiera. Tre giorni di esposizione con diversi settori, la struttura della Promocamera completamente rivestita di immagini della regione, perché Promo Ottunno è un evento di Sassare ma che ha abbracciato tutta l'isola con molte realtà imprenditoriali, arrivando anche oltre mare e dalla Germania. La Promocamera ha accolto con tutta la sua struttura questa iniziativa, ha sottolineato il presidente Maria Amelia Lai. Ad inaugurare venerdì 14 ottobre alle 9.30 sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Luca Lotti, che taglierà il nastro insieme all'assessore regionale del commercio, Francesco Morandi, al sindaco Nicola Sanna, l'assessore comunale Gianni Carbini, Gavino Sini, presidente Camera di Commercio, Maria Amelia Lai, presidente di Promocamera. Madrina dell'evento, la top model internazionale Beniada Iachic. Un evento completamente gratuito per i visitatori che potranno raggiungere la Promocamera a Predaniedda, partendo dalla Piazza d'Italia grazie al servizio navetta gratuito messo a disposizione da ATP, oppure prendere un taxi al costo di 2,50 euro. Un evento sold out, racconta Claudio Rotunno, organizzatore dell'evento, i numeri lo confermano, 300 stand per 120 aziende con 3 settori più 2 padiglioni dedicati al wedding e al wine food. Mille persone coinvolte nell'abito della tre giorni con aziende maestranze sassaresi, un modo per creare lavoro e dimenticare la parola crisi, anche perché è promo autunno, ancora prima di tagliare il nastro, guarda già avanti, infatti il 21, 22 e 23 aprile prossimi ci sarà promo primavera.